Se non hai visto il mio video di ieri corri a guardarlo perché qui ti do la soluzione. Partiamo dagli errori principali, c'è chi ha detto è tentato omicidio perché c'era l'intenzionalità. È vero, vi ho messo un po' in difficoltà perché ho raccontato la storia delle minacce precedenti, ma l'intenzionalità non può essere il discrimine in quel caso tra le lesioni e il tentato omicidio. C'è poi chi ha detto sono lesioni perché l'ha incontrato per caso, non c'è premeditazione. La premeditazione in realtà è una circostanza aggravante e compatibile sia con le lesioni sia con il tentato omicidio. Non è un elemento che può distinguere le lesioni dal tentato omicidio. L'errore principale fondamentalmente è stato quello di andare a guardare gli elementi che devono essere valutati solo dopo un altro ragionamento che andava fatto, premeditazione, intenzionalità eccetera. La prima cosa da capire è invece che cos'è il tentativo. Il tentativo consiste in una serie di atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. E certo, le percosse, la violenza è certamente un atto idoneo, ma possiamo veramente dire che quegli atti fossero diretti in modo non equivoco a commettere un omicidio? Non direi proprio. Non ci sono molti margini in questa vicenda per contestare un tentato omicidio. È il diritto penale. Che stè?